ciao amici di napolità e ormai sono giornate che ci portano a fare delle riflessioni però dobbiamo sapere aspettare è il momento che dobbiamo aspettare ma prima di iniziare voglio ringraziare tutti i nuovi abbonati e invitare a chi sta passando ora su questo video ad iscrivervi al canale ad attivare la campanella delle notifiche e a lasciare un like a questo video che per me è fondamentale l'algoritmo dobbiamo girare ora che ci sono tantissime notizie ricordatevi in basso il quad code di sofascore l'app sul calcio e su tutti gli sport e ricordatevi www.napolita.it tantissimi articoli in tempo reale c'è una partita domenica c'è l'ultima napoli lecce che ci porta a fare un giro è incredibile stasera c'è bayer Leverkusen atalanta partita d'europa league perché guardate cosa è successo dovremmo tifare per l'atalanta ovviamente tifano chi quelli che vorrebbero gasperini come allenatore del napoli perché perché c'è questa voce che gira che praticamente se gasperini vince è molto vicino al napoli se invece malauguratamente dovesse perdere allora lì si può aprire uno scenario diverso quello che porterebbe l'allenatore a rimanere con l'atalanta quindi stasera ci sta chi tifa per l'atalanta e poi c'è un altro intreccio che che oramai è quello lì che mettiamo un po da parte perché se il napoli vince con lecce che cosa succede succede che può arrivare al nono posto e dobbiamo diventare tifosi della fiorentina perché per far sì che il napoli vada in conferenze league poi italiano anche lui avvicinato al napoli deve poi vincere quindi dobbiamo in una settimana cioè in un breve periodo diventare tifosi dell'atalanta e paradossalmente della fiorentina per il bene del napoli guardate quanti intrecci in questa stagione raga stagione che che veramente nessuno di noi si aspettava finalmente arriva al termine ultima gara domenica e poi dobbiamo capire cosa succederà nel futuro del napoli futuro che ha visto un manna iper operativo pronto insieme a chiavelli notizia per quelli che praticamente vogliono un presidente aurelio dell'aurentis più distaccato dalle cose che succedono in campo ieri abbiamo visto proprio manna e chiavelli viaggiare a castelvolturno viaggiare anche nella nell'albergo no quello che il quartier generale del napoli quindi questo ci fa capire che dell'aurentis in questo momento è un po più defilato si sta parlando gergo tecnico che manna al di là di quello che farà napoli è un tecnico che ha dimostrato di meritare ad oggi la piazza napoli poi quello che farà vedremo io ho fatto anche uno short un contenuto dove loggiavo il passato di giovanni manna ma questo non vuol dire che sono sicuro del del futuro e deve ancora dimostrare deve farci vedere cosa è in grado di fare perché lui ora ha un incarico importante quello di fare prima di tutto una squadra sartoriale no vestito proprio perfetto per l'allenatore che poi alla fine verrà scelto e ieri per esempio abbiamo visto che si è iniziato proprio da dal portiere ieri c'è stato l'incontro con pastorello che ci apre uno scenario e questa è una domanda che vi voglio fare iniziamo con le domande perché come sapete a me interessa il vostro parere le vostre opinioni più che quello che che è la mia idea c'è pastorello che anche lui il l'agente di skorupski quindi potrebbe aprirsi uno scenario che vede meret lontano da napoli probabilmente al bologna meret che è un buon portiere raga sapete come la penso sul sul portiere del napoli però è in una piazza nociva dobbiamo essere onesti qualsiasi cosa succede al napoli la maggior parte delle responsabilità è sempre di meret alla fine di solito è sempre del portiere perché il portiere è il ruolo più complicato però in questo caso nel caso napoli meret è sempre tartassato da critiche secondo me anche esagerate quindi meret che ripeto un buon portiere potrebbe andare a bologna potrebbe andare a giocarsi la champions e qui potrebbe arrivare skorupski quindi prima domanda vi piacerebbe questa operazione lo vedreste skorupski come titolare del napoli perché poi vi apro un altro scenario il fatto di scegliere skorupski che ha fatto un'ottima stagione con tiago motta che gioca anche dal portiere quindi gioca da dietro e skorupski abbastanza bravo molta esperienza come diciamo nel suo ruolo e poi ti aprirebbe anche ci aprirebbe anche a fare un altro tipo di ragionamento cioè quello sul caprile e tu decidi per esempio di tenere skorupski ma mantenere anche caprile in questo caso puoi tenere due portieri sempre sul pezzo perché non è detto che poi skorupski è inamovibile e magari puoi creare anche questa questa competitività perché in tanti e io sono d'accordo su questa cosa vogliono un napoli competitivo nelle coppie cioè vogliono per esempio anghissà è uno che praticamente anghissà può aver timore no un giocatore che può mettere in dubbio la titolarità di uno come zamm anghissà fatto un esempio raga perché non sappiamo neanche quale sarà il futuro di anghissà quindi rispondetemi su questa domanda skorupski meret se vi convince soprattutto se vi convince anche per esempio l'avere caprile come ipotetico titolare se merita poi dobbiamo anche sottolineare una cosa importante se noi andiamo a fare un ragionamento soprattutto su quella che può essere la scelta dell'allenatore e andiamo a ragionare su quello che è il manna fino a quest'oggi possiamo ipotizzare un manna che potrebbe portare a gasperini quelli che sono i giocatori che tra virgolette allenato in questo ultimo periodo perché nella sua storia no a bergamasca con l'atalante con l'atalanta lui ha adoperato molti giocatori forti presi dall'under 23 no possiamo possiamo sottolineare l'utilizzo per esempio di scalvini di carne secchi che però non sono poi dei giocatori che direttamente dall'under 23 sono passati in prima squadra ma hanno fatto un percorso coerente e ci sono anche calciatori dell'atalanta per esempio che sono passati direttamente all'under 23 a squadre top nel panorama europeo quindi se andiamo a fare un ragionamento la chiusura del cerchio potrebbe essere questa centro sportivo manna che è uno molto molto bravo a trovare scovare talenti quindi ad organizzare quello che potrebbe essere un settore giovanile abbastanza strutturato e gasperini che potrebbe non solo lavorare benissimo con la prima squadra con l'aiuto proprio del direttore sportivo che ti porta nell'immediato dei giocatori funzionali rispetto a quella che l'idea di calcio di gasperini ma anche potrebbe gestire bene quello che è il settore giovanile che il napoli magari pensa di fare e questa è una chiusura abbastanza che ci può portare ad un ragionamento concreto è uno è un come posso dire un ragionare a voce alta però poi dobbiamo capire quello che succede invece se non dovesse essere gasperini dalle nature perché lì ce lo mettiamo questo ragionamento lo mettiamo un attimo da parte invece poi a scegliere possono essere per esempio può arrivare italiano o allo stesso modo pioli perché poi io piole italiano per quanto riguarda l'idea di calcio li metto molto vicini perché entrambi fanno il 4 2 3 1 entrambi gestiscono abbastanza bene la rosa però questo potrebbe cozzare un po quello che il percorso settore giovanile perché loro si utilizzano pioli qualcosa l'ha utilizzato quest'anno ha preso qualcuno quando aveva poco problemi per esempio sulla difesa perché è stato per molti mesi senza difensori centrali la stessa cosa la fa italiano no con caiode che utilizza è uno che lui ha messo in campo perché poi italiano è uno che sfrutta la rosa appieno quindi anche lì dovremmo capire poi quale potrebbe essere l'idea del napoli raga vedete come sono tutti aperti i ragionamenti ed è anche bello lo so che per chi è ansioso non ce la fa più dice mamma mia ma che succede invece a me che sono uno abbastanza sereno mi piace capire quale potrebbe essere la scelta giusta perché poi la scelta potrebbe essere giusta ma magari non non è quella che ci porta i risultati però i ragionamenti ad oggi sono tutti aperti e vi chiedo proprio di fare il vostro ragionamento in questo video sotto nei commenti e spiegarmi anche qual è il vostro preferito perché poi non ho fatto cioè non l'ho tolto conte perché anche conte porta dietro un ragionamento forse leggermente diverso ma non possiamo mai sapere se conte ha cambiato anche l'idea può darsi anche che conte adesso si può mettere in linea rispetto a quello che il progetto a quello che è il progetto napoli quindi rimango tutto aperto e mi conservano per la fine invece ragionamento su de zervi che ecco lo forzo un po perché sapete che è un allenatore che io stimo lo forzo però sempre dietro a un ragionamento il celsi fa uscire pocettino abbiamo letto dalle notizie stamattina per esempio di fabrizio romano che tra i papabili c'è enzo maresca un altro allenatore che io stimo tanto abbiamo anche saputo che c'è una clausola di 7 8 milioni ma questo non è un problema per il celsi altro scenario si è aperto per anze flick che potrebbe andare al barcellona quindi anche lì chiusura c'è l'idea company per il bayern monaco quindi come vedete si stanno chiudendo un po tutte le squadre tiago motta che è quasi fatta dato quasi confermato anche da fabrizio romano il suo arrivo alla juve e quindi come vedete gli scenari sono ancora tutti aperti ma questo è un video che ho fatto a braccio come tutti i video che faccio ma soprattutto per sapere la vostra opinione fatemi sapere sotto qual è il vostro pensiero in questo momento e soprattutto speriamo che si riesce a trovare la strada giusta o almeno il percorso quello lì da intraprendere con serietà magari si sceglie di fare un percorso e lo si fa l'unica cosa che chiedo alla proprietà di difendere a spada tratta la scelta se si va su un allenatore bisogna essere convinti e questo allenatore bisogna difenderlo anche se all'inizio potrebbero essere negativi i risultati perché questa secondo me è la cosa principale e soprattutto dobbiamo aspettare perché ci potrebbe essere la così tanta attesa conferenza stampa che magari potrebbe schiarirci un po le idee magari invece di parlare dell'aurentis quest'anno darsi che parla manna e quello potrebbe essere un passo in avanti perché vuol dire che dell'aurentis dopo quest'anno incredibile negativissimo abbia deciso di mettersi un po da parte per la gioia di tanti di voi anche per per la mia perché a questo punto dopo quest'anno è forse giusto dare peso a chi è nello staff e far fare il lavoro a chi ovviamente è all'altezza di farlo e alle competenze giuste ragazzi io vi saluto vi auguro una buona giornata un bacio un bacio da sasa è sempre forza napoli poi domani magari parliamo un po della della finale di europa league vediamo che cosa è successo voglio vi voglio bene ciao